Un settore produttivo vitale per l'economia della Puglia, quello dell'agricoltura, un settore complesso che per fronteggiare le sue problematiche ha bisogno anche di opportunità di miglioramento, opportunità che vanno ricercate in continua ricerca e continua innovazione che possano rendere il comparto sempre più competitivo. Questo secondo quanto emerge dalla pubblicazione fa bisogno di innovazione dell'agricoltura pugliese presentata durante la fiera del Levante di Bari e la vigilia della nuova PAC 2014-2020 che sarà votata il 30 settembre prossimo. La politica agricola comune è in dirittura d'arrivo, la nuova PAC partirà il 2016 ma l'ultimo trilogo si trarà la settimana prossima e poi a novembre sarà approvata definitivamente in plenaria con grandi ed importanti novità per la nostra agricoltura pugliese e meridionale ma anche con grandi miglioramenti rispetto alla proposta iniziale del commissario Ciolos. Questo ci dà speranza ma dobbiamo creare le condizioni perché il territorio sappia raccogliere le sfide che l'Europa lancia e le opportunità che le sfide mette a disposizione. Occorre superare una logica di frammentarietà e di contrapposizione che ha fatto debole e troppo diviso il nostro sistema. La pubblicazione è il risultato di un intenso lavoro svolto dalla Regione Puglia in collaborazione con la sede regionale INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria tra il 2010 e il 2011. Uno dei grossi punti di debolezza del sistema ricerca italiano è la grande frammentazione. Non tanto perché le strutture sono piccole, l'ultimo ciclo di valutazione della ricerca dell'ANVUR ha dimostrato che non c'è una grossa differenza nella qualità della ricerca tra i piccoli e grandi enti. La verità però è che non c'è tanto coordinamento sui temi, sulle politiche, sulle modalità e questo crea delle difficoltà in primis al mondo della ricerca ma anche al mondo degli operatori. Investire tempo, risorse e impegno per lo sviluppo dell'agricoltura pugliese e per promuoverne l'innovazione non basta, la parola d'ordine resta aggregazione. C'è la necessità appunto di indirizzare risorse e progetti per inserire appunto l'innovazione all'interno di questo processo produttivo ma non è l'unico, la tradizione e la vocazione che abbiamo fatto riscoprire nel settore della nostra agricoltura e di conseguenza nel settore anche no gastronomico va abbinato appunto anche all'attività di innovazione che è fondamentale soprattutto per intervenire anche sui bilanci delle aziende. Ruolo fondamentale nella logica dell'innovazione in agricoltura ricoperto dai PEI. Il PEI è uno degli strumenti più interessanti che viene messo in campo dalla nuova programmazione comunitaria. Attraverso il regolamento dello sviluppo rurale il PEI viene declinato come uno degli strumenti che possono mettere in campo delle forme di aggregazione, di associazione che sono i gruppi operativi che sono deputati a trasferire l'innovazione e la conoscenza alle aziende agricole e ai sistemi produttivi agricoli territoriali. È uno strumento che permette di unire differenti competenze, differenti operatori che vengono dai differenti orizzonti. Vogliamo mettere insieme gli operatori della pratica agricola, il mondo scientifico, i consulenti, tutte quelle persone che possono portare un contributo concreto all'implementazione di un progetto.